Il mistero e il segreto dietro l'hypnosi non verbale e il mesmerismo. Resultati delle mie ricerca. Per voi, per il vostro sviluppo personale, per la tua vita e per diventare un professionista con i risultati più alti. Se spiegelate le mie ricerca. Se spiegelate le mie ricerca. L'esprez le mie ricerca. Le mie ricerca e le mie ricerca. L'amore ha un'attività incredibile, ciò che ci insegneremo è di usare questa potenza e riceverai risultati che non avevi mai pensato possibile, riceverai i risultati reali che volevi capire, solo una cosa, sia etica e seriata, e vi darò il massimo per ottenere queste risultate. Grazie. Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie 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 a tutti. senza usare alcune parole. E con il nonverbalo, con il touch, ogni touch crea un cambiamento nella percezione, più profondamente da alcune parole. E quindi con alcune touch, anche senza touch la persona, molte volte, solo per andare molto vicino, la persona sentirà diverso, non sapere perché, non comprendere perché si sentirà diverso ma si sentirà, si sentirà diverso. Io ti invito a fare due cose. 1. Seguire i nostri canali gratuiti online. 2. Subscribe al nostro canale. Perché ciò che mettiamo nel nostro video è unico e che non lo potrà trovare in altri posti. Queste sono le mie ricercie, i miei esercizi e non lo potrà trovare in un posto. 3. La mia vita. 3. La mia vita. 3. La mia vita. 3. La mia vita. 4. La mia vita. 5. La mia vita. 5. La mia vita. Grazie.